Presentata oggi dalla Fondazione Cari, spacca la seconda edizione del Bando Turismo Esperenziale 2024, l'emozione della scoperta dei beni culturali della provincia dell'Aquila. Col Bando, presentata pure la prima edizione del Premio Turismo d'Eccellenza, realizzato con l'Associazione Virgilio, uno strumento di sostegno al settore che intende sostenere la realizzazione di progetti innovativi nel campo del turismo esperenziale, destinato agli enti del terzo settore. Ci siamo accorti che finanziando questo progetto vengono fuori delle potenzialità che diversamente sarebbero nascoste e non darebbero la possibilità di andare a scavare nei luoghi nei quali difficilmente ci si va con progetti diversi. La cosa è importante, è stata importante, progetti che hanno dato il loro risultato abbiamo detto tra di noi, dobbiamo ripetere e lo ripetiamo stamattina insieme alle altre realtà. Per questa edizione ci sono diverse novità, come la maggiore attenzione alle categorie svantaggiate. Le parole chiave saranno turismo, accessibile e innovazione. La proposta progettuale dovrà prevedere visite guidate e articolate in almeno cinque giorni, secondo un calendario predefinito in un orizzonte temporale non superiore ai 12 mesi, di beni culturali allo scopo di favorire e realizzare lo sviluppo economico del territorio, ma anche la creazione di nuove imprese. Fondamentale che la fondazione sia al fianco dei beni culturali e del patrimonio. Noi come museo ci siamo anche, come sapete il Museo Nazionale d'Abruzzo ha acquisito da poco Amiternum, quindi stiamo lavorando e l'idea di aprire al territorio e fare dei legami con il territorio da un punto di vista storico, culturale, archeologico è la cosa che ci interessa. Grazie.